Prima giornata, Coppa Primavera, Over 40, si affrontano GV Sped e Real Lambrate. Batte il calcio d'angolo, fischetto di testa, Papaluca, il 19 di via in calcio d'angolo. Sventaglia Tarantino col destro, lo mette giù Rossi, avanza, entra in area di rigore, calcia in porta! E c'è il vantaggio GV Sped, 1-0. Arriva il traversone col destro, colpo di testa di fischetto che non trova lo specchio della porta. Avanza centralmente GV Sped col tacco Tarantino, benissimo per Bevilacqua che salta il portiere, la mette dentro per il 2-0. Grandi col mancino, va in porta, la risposta del portiere non la tiene, Tarantino di rimpallo, 3-0 GV Sped. Tarantino avanza, palla al piede, prova a ricapire il paolo per Grandi che va in porta! E sono 4! Gori avanza, palla al piede, allarga sulla destra, conclusione, la parata di Papaluca. Prova a ripartire la difesa, Malves riconquista il pallone sulla destra, vede il compagno in mezzo, lo serve! Il 5-0 di Margarita. Crivellaro la mette dentro per Galluccio al volo e arriva il gol della bandiera, 5-1. Bevilacqua c'è la suddestra, la mette dentro, la doppietta di Tarantino, 6-1. Margarita col mancino, pesca Bevilacqua e sono 7, doppietta anche per il numero 10. E finisce qui, vince GV Sped 7-1 e si porta a casa i primi tre punti della Coppa Primavera Over 40.